Buongiorno, ci troviamo negli spazi del ridotto del Teatro Comunale Goldoni di Bagnacavallo in provincia di Ravenna. Questi spazi, precedentemente utilizzati come uffici comunali, sono stati oggetto di una ristrutturazione terminata nel 2019 che vede questa stanza rettangolare come spazio dedicato a incontri, eventi e spettacoli dal vivo, mentre le tre stanze adiacenti sono dedicate a spazi espositivi. Il teatro fu inaugurato nel 1845 dopo che un consiglio comunale del 1839 deliberò la sua costruzione sulla piazza principale e a fianco al municipio. Fu dedicato nel 1907 a Carlo Goldoni, il cui padre esercitò la professione di medico qui a Bagnacavallo. Il progetto architettonico che risponde a dei requisiti neoclassici fu affidato a Filippo Antolini, una figura di primo piano dell'architettura ottocentesca bolognese. Gli affreschi sono del pittore, decoratore e scenografo ferrarese Francesco Migliari, mentre gli stucchi di Antonio Tognetti, sempre bolognese. Il teatro Goldoni nella sua storia più recente, gestito da Accademia Perduta Romagna Teatri, è anche un centro di produzione e ospita anche un'altra accademia importante che è l'Accademia Bizantina, un'orchestra di musica barocca. Storicamente il teatro Goldoni ha sempre accolto rassegne di grande valore ed è veramente un patrimonio per la vita sociale del Paese. Gli interventi che sono attualmente in corso d'opera fanno riferimento alla linea di finanziamento regionale della legge regionale 13 del 99 e a seguito dell'erogazione del contributo con la DGR 500 del 2018 c'è stato concesso il contributo di circa 147 mila euro sul totale richiesto di 300 mila. I lavori si distinguono in lavori per l'efficientamento energetico e lavori per il restauro degli arei desistenti. Le forniture sono anch'esse di due tipologie, sono le forniture delle sedute del ridotto e la posa in opera con la fornitura di nuove sedute che andranno inserite all'interno della platea. L'intervento principale dell'efficientamento energetico prevede un miglioramento sui consumi, quindi un risparmio di consumo pari al 30% di quelli stabiliti dai precedenti anni. Le problematiche principali a cui si è voluto mettere mano sono quelli riguardanti le dispersioni termiche e infatti si è deciso di intervenire sulla sostituzione di alcuni infissi a vetro singolo, sostituendoli con vetro doppio, con camera nell'intermezzo e nuovo telaio di tipo in legno. Si prevede la sostituzione di fan coil esistenti, nei radiatori esistenti, l'inserimento di valvole termostatiche. Si prevede anche l'utilizzo di sistemi che evitano la dispersione delle tubazioni che vanno a fornire l'impianto di riscaldamento. Vengono anche realizzati interventi di restauro. Questi interventi di restauro vengono affrontati per quei beni che sono datati dal periodo Luigi Filippo, quindi metà 1800, fino ad arrivare alla prima metà del 1900. Abbiamo dei comò e abbiamo delle console. La parte afferente alla prima metà del 1900 è il ristauro di circa 250 tonnet tra sedi e sgabelli. Per quanto riguarda le forniture, abbiamo acquisito le sedi sempre tonnet che sono state inserite qui nel ridotto per dare un valore aggiunto alla qualità artistica e culturale del loco. Per quanto riguarda la platea verranno inserite nuove sedute conformi ai requisiti minimi richiesti per la sicurezza dell'antincendio. Grazie all'intervento sugli arredi riusciremo a dare ai cittadini un corpo di fabbrica funzionale e fruibile perché riusciremo a dare a loro una comodità ulteriore a cui ormai non erano più abituati. I lavori sono iniziati con l'affidamento della prima acquisizione circa a maggio del 2020 e presumibilmente finiranno nel 2021.